Ah poi è molto importante anche avere questa capacità di improvvisazione, improvvisare è importantissimo L'improvvisazione credo sia importante, però temo che stiamo facendo tardi al prossimo appuntamento Signora Maffei, ore 10 e 15 Ah, ore 10 e 15, non sono neanche le 10, dai Ma perché? Quello che ho scritto non lo pensi anche tu? Il punto è che né tu, né io possiamo divulgare certe informazioni alla staff Ma di una però, lei mi aveva detto Che in passato, insomma In passato, appunto, guardiamo avanti Sì, però cerca di stare calma Ma certo che vengo, arrivo subito È la classica situazione, è il cazzo Beh, allora forse avresti dovuto monitorare con maggiore regolarità Ecco, già, monitorare Capirai, vedrai con questo lavoro come volano le giornate e quanto tempo avrai per monitorare E quando una persona ti vuole bene e ti viene a cercare apposta per dirti che stai per fare una stronzata Vuol dire che per davvero stai per fare una stronzata L'ha già fatta una lasciando la scuola, non ne fare un'altra Comunque la vita è tua Ecco appunto, è mia Dai, forse Ciao Ciao Ciao